C'è il seguito del nuovo video, oggi ti faccio vedere un video veloce veloce perché adesso con me faccio un video di carne di carne e faccio vedere un video veloce veloce Allora signori, io tra po' vado in live perché signori? Perché mi sono comprato sul pc, non comprato, caricato fifa qualcosa sul pc signori ora vado in live nei 10 minuti perchè dopo la roba vado a comprami vado a comprami il coso come si chiama il japan per giocare e poi come lo so ragazzi questa è una riaccione su filmare codici che vuol dire perché sono sulla mia faccia dove gioco su computer questa roba serie che voglio fare e è una cosa bella se mi piace questa serie che sto facendo e solo la mia faccia dove gioco sul computer e la pari ancora 5 minuti ragazzi perchè io posso andare al computer e lo sapere già che io ho le bellezze anche in commozioni e quindi sono un po' contento per il giornale a fifa ci vediamo dopo la carriera ciao